Dopo quasi 30 anni di promesse rimaste disattese, le frazioni di Taurianova, San Martino e Amato avranno il metano ad annunciarlo e lo stesso sindaco Fabio Scionti insieme ad alcuni dirigenti della società Italgas, azienda che avrà il compito di portare a compimento l'opera. I lavori inizieranno il prossimo 2 maggio e finiranno almeno da quanto riferito il 31 agosto. L'esborso non indebolirà le casse del comune di Taurianova, visto che gli interventi saranno completamente a carico dell'azienda e si estenderanno, una volta terminate le azioni a San Martino, anche in un altro punto nevralgico della città di Taurianova, ossia la zona frazione di Amato, particolarmente soddisfatto del nuovo percorso intrapreso il sindaco Fabio Scionti. In modo silenzioso, ma lavorando tantissimo, siamo riusciti ad ottenere un risultato storico per questa città, comunità popolose, tra l'altro parliamo di San Martino, con più di 1.500-2.000 abitanti, ad Amato altri mille. Insomma, quindi voglio dire un ulteriore passaggio di crescita di una comunità e di servizi essenziali di cui non si può fare a meno. Il primo cittadino si toglie qualche sassolino dalle scarpe e si concentra sul lavoro da portare a compimento per il futuro. Storico perché io mi immagino 30 anni di comizi da parte di tantissimi politici, dove hanno promesso questo metano alle due comunità San Martino e Amato, noi oggi daremo la comunicazione che il 2 maggio inizieranno i lavori per la metanizzazione, cioè in soli due anni abbiamo raggiunto il risultato che è veramente saldello storico. Sono tantissimi lavori in corso in questo momento, il primo quello che stiamo realizzando con circa 600.000 euro, stiamo riaspaltando più di 9 chilometri di strade, ma abbiamo il lavoro di messa in sicurezza del territorio, località Fida, 900.000 euro, che siamo quasi alle battute finali, è un'opera di alta ingegneria idraulica. Abbiamo l'opera consegnata proprio venerdì della condotta fognaria per circa 350.000 euro, quello della 167, zona 167, quindi queste sono solo alcune delle opere in corso, ma tante altre a breve partiranno.